Presidente, una parola, una parola, Presidente. Una volta che è stata assunta una decisione nell'interesse del Paese, abbiamo naturalmente fatto di tutto per riuscire a mettere insieme questo Governo nel meno tempo possibile e quindi abbiamo dato tutto il più fattivo contributo possibile. Il sostegno sarà comunque leale e collaborativo nei confronti del nuovo Governo? Certamente, nell'interesse del Paese. Scusate, grazie, grazie molto. Grazie.